E dal mistero sul Nilo, al mistero sul contenuto di una borsa speciale di un ospite davvero speciale. Abbiamo il piacere di avere insieme a noi Leo Ortolani. Ciao Leo, benvenuto. È un immenso piacere. Siamo honoratti. Honoratti. Onoratti. Ti tratteniamo. Posso andare, dopo questa? Vabbè, lo so. Fletti i muscoli. Fletti i muscoli. Insomma, vedo che hai qualcosa con... Eh sì, ormai siamo curiosi davvero. Prima di andare sì, no. Ho portato qualche memorabilia in questa borsa che tra l'altro è la mia di lavoro. Anche la borsa è memorabilia. Anche la borsa è memorabilia, in effetti. Sì, ho cosette così, giusto per soliticarle l'intenzione, tipo, non so, un primo numero di Rattman. Così. Così, proprio senza... Esatto. 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 Che casualmente sparirà a fine puntata. Sotto la mia maglia. Siamo usciti da lì. Perché è assolutamente tenuto, guarda, ho fatto un attimo qua sul tavolo. No! No, mi ha visto Carlo. Oh mio, mi ha visto Carlo. E poi no, avevo creato una cosa apposta per crossover ed era il rifacimento di una cosa fatta 51 anni fa. Accidenti. Ah, questa... Sì, nel senso che quando avevo quattro anni io ho fatto il mio primo fumetto ed è questo. Oh, ma è bellissimo. Ed è un foglietto, insomma, che ne ha vissuto un po' tante. Una storia molto strana dove ci sono Zio Paperone e Zio Paperino che vanno in barche in mezzo ai mostri, poi arrivano in posto e poi vignette vuote. Ecco, io mi sono sempre chiesto alla fine come mai probabilmente dove andare a tavola, quindi ho smesso di disegnarlo. Però ho voluto fare una sorpresetta. Perché? Perché con Sir Baccio? Come hai fatto con Sir Baccio? Perché io ho tutte le mie sorpresette. È un problema mio, anche lo psicanalista ha detto vabbè, continuo a tenerlo. È per quello che sono vuote. Io ho tutti i fumetti che ho fatto fin da quando ero piccolo, non so perché questa... Vabbè, c'è attaccamento. L'ho rifatto. Dai! Ma hai completato la storia, ho dato un senso a questa storia. Quindi dalla prima vignetta dove c'era Paperino che si voleva tuffare nel deposito, quindi inizia la storia, il viaggio. Tra l'altro lo stile è un po' peggiorato. È un po' peggiorato, purtroppo io con la Disney non riesco a fare molte cose. Guarda come li butta lì questi tesori. Sì, perché sono comunque fogli che sono abbastanza robusti. E Zio Paperino che lo porta a fare questo viaggio come 51 anni fa, però Zio Paperino sa perché sta facendo questo viaggio, perché deve dimostrare qualche cosa a Paperino. E anche qua abbiamo... Sì, scusa, stavo per cascare. Arrivano in questa zona qua e questa zona sostanzialmente era il mio inizio. Cioè queste vignette bianche erano quello che avrei incontrato da lì in poi. Cioè dai quattro anni in poi avrei avuto vignette bianche in cui scrivere qualunque cosa, per cui era come una specie di augurio che mi facevano questi personaggi. Beh, ma è bellissimo. No, bello, bello, bello. Tra l'altro lì c'è un mostro anfibio lì nell'acqua che ricorda qualcos'altro. Un mesosauro perché era un appassionato. Un mercuroide quasi. No, è bellissimo. Sì, esatto, un mercuroide. Potremmo anche vedere chi sapeva fare i mostri meglio di me. Ah, perché c'è una citazione, è una pseudo citazione quella. Quale? No, 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 del mostro anfibio, dell'allieno anfibio. No, mi hai fatto fare caso adesso. Eh vedi, è un po' più canonista, quindi poi facciamo una parcella. Poi facciamo, esatto. È fantastico. Però per far vedere invece chi è più bravo di me ho portato anche un'altra chicca, visto che si parla di mostri. Ok. Questo era un mostro del fumetto americano, suo nome è Jack Kirby. Dico è perché è ancora assolutamente il numero uno per quanto riguarda come rapportarsi a un disegnatore, a un fumettista. Tutti i film che è andato a vedere di supereroi li ha fatti praticamente lui, di supereroi li ha creati lui. Thor, Avengers, Giant Man, Hulk, Fantastici Quattro che arriveranno. E niente, questo è un semplice disegnetto che lui faceva per creare dei modelli per cartoni animati degli erculoidi. In questo caso qua, quindi abbiamo un mostro anfibio. Vedi che c'è una citazione, è l'incorrente, vedi che torna sempre. Questo lo appoggio con un po' più di... Con delicatezza. Con più grazie. Non lo tocca neanche per le soluzioni precedenti anni. E alla fine vi faccio vedere questa che è proprio... Preparatevi, preparatevi. Capitano America, firmato. Queste sono tavole che si trovano ormai nei musei, per cui la cosa bella che a me fa molto, non so, un po' tenerezza e commuovere il fatto che dietro è sporco di grafite. Perché il suo tavolo era, ovviamente usando le matite grasse così, era completamente sporco di grafite. E per capire che non è un falso, uno gira la tavola, a parte tutte le certificazioni così, però questo fatto di essere sporco di grafite certifica che viene proprio dal suo tavolo. La mia anima vale meno, penso. Io non l'appoggierei lì perché altrimenti qualcuno lo scambia come tovagliette e che mette in calcazione. Però ci dicevi che sei più legato alle matite perché quello è solo e solamente il suo lavoro, giusto? Esatto, perché la tavola è stata poi inchiostrata da altri inchiostrati. È stato poi da Mike Royer o Tibodò, adesso non mi ricordo chi è inchiostrato quella, però le sue matite sono spettacolari. Perché vedi proprio l'energia che lui mette quando disegna nel tratto, è una cosa... Il tratto sembra quasi perfetto, non ci sono pentimenti, non si vede neanche la... Infatti a lui dicevano puoi buttare la gomma. Infatti non si vede neanche... Lui poggiava la matita e ti crea una tavola così. Questa non cancellava. Perché lui aveva in testa già quello che doveva disegnare. Aveva già in testa l'anfibio. Esatto. Come te, quindi attenzione, potrebbe essere pericoloso. Esatto. No, no, era la capacità di visualizzare quello che deve essere messo sulla tavola, vuol dire che sai anche gli spazi che ci saranno. Per cui tu parti da una parte, arrivi fino in fondo e la disegni completamente. È una cosa che pochissimi riescono a fare, perché molte volte... E che cosa hai preso da lui? C'è qualcosa che ho fatto qua? Esatto, c'è qualche... È una cosa che non ho preso da lui, però i fumettisti di solito ce l'hanno. Quello di riuscire a visualizzare quello che viene sul foglio e di capire già anche, diciamo così, gli spazi in cui... Ovviamente non riesco a farlo sempre e a volte faccio dei bozzetti esterni anch'io, come ad esempio, non so, per far vedere la creazione di una copertina. Quanti segreti in questo video. Il bozzetto fatto per la copertina di Matana, che era la miniserie Western Spaghetti fatta l'anno scorso. Vedete su un fogliaccio qualunque, qua dietro abbiamo un indice analitico per... Fogliaccio qualunque, ragazzi. Manuari di diritto amministrativo e dietro c'è la mozza della copertina. Secondo me il diritto amministrativo non è che ti piaceva così tanto. No, ma erano fogli che mi regalavano i miei amici, mi danno dei faltoni di roba che non usavano. E poi dopo si passava anche a fare la bozza per il colore, che poi passa mio fratello, Lorenzo. E questo è giusto per dargli un'idea di quello che dovrebbe essere quello che è la copertina finale. E anche qui li mettiamo lì. E abbiamo con già gli spazi, ovviamente, per dire che adesso c'è un legame in più tra me e Jack Kirby, creatore dei Fantastici Quattro, perché è uscito in America il... Un numero dei Fantastici Quattro, che per festeggiare i 60 anni dal primo numero dei Fantastici Quattro, hanno contattato 60 autori in giro per il mondo per realizzare una tavola a testa. E io ho realizzato una tavola dei Fantastici Quattro, che è un combattimento, una delle più miserabili ovviamente, perché però ho cercato di rendere al massimo, insomma, combattimento tra Ridriccia, cioè il mister Fantastic e l'uomo Talpa, buttala via, meglio che niente. Beh, insomma. E quindi ho lavorato per la Marble anch'io, con un lavoro di Kirby, tra l'altro, per cui, insomma, siamo riusciti a fare... E che si è chiuso un cerchio. E si è chiuso un cerchio, esatto. Partendo da questo disegno, che comunque è molto meglio di quello che potremmo fare noi. Ma stavo guardando se c'era qualche altra cosa interessante, ci sono sempre così, bozzetti, tipo, poi magari lo faremo vedere anche dopo. Insomma, questo qua è un bozzetto non finito, perché stavo cercando di creare delle copertine per l'uscita della raccolta totale della serie di rapa, per cui, e questo è un... anche qua, questa... ne avevo fatta una, l'avevo anche inchiostrata, e poi dopo non è andata... ne abbiamo preferito fare dell'altra, che qua abbiamo... Picciotti. Guarda, che ultimamente invece mi sto... siccome non ho molte storie da scrivere, mi sto dedicando all'assassino sul Nilo, come diceva prima, perché c'era Gal Gadot, e invece io realizzo dei bozzetti di pin-up, ispirati a questa musa. Sono delle cose che, così... Ma questo è veramente... questo è bellissimo. Ricordano un po' Magnus, qualcuno mi ha detto ricorda un po' lo stile di Magnus, perché sono molto linea chiara, molto pulizia, e sono una serie di immagini che poi finiranno in un volume, in un art book, come... È una raccolta. Sì, una raccolta di queste 25 immagini, il volume si dovrebbe intitolare Musa, visto che sono, diciamo così, ispirate... C'è un filo rosso che le unisce queste 12 immagini, o sono soltanto... Sono 25, sono 25 immagini, ma sì, il fatto di così, di essere partito dall'idea di una musa ideale, di così, immaginare in diversi contesti, come un art book, come è già stato fatto fare a Manara, a Cavazzano, a Tannino Liberatore, il quarto sarà appunto il mio. Quindi quello è il raggiungimento di un'apica, quando si arriva... Quando si arriva vuol dire che sei invecchiato. Ok, no, vabbè, c'è, 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 nel senso, non è una cosa... Sì, no, ma però la cosa bella è che io, per vedere questi pin-up qua, ho dovuto uscire da una comfort zone... Sì, modelle, insomma, queste... Ho dovuto uscire da questa comfort zone in cui di solito si realizzavano delle figure femminili molto fumettistiche, no? Per cui con la gamba di 3 km, col bittino a Vespa... Infatti volevo dirlo, questa ha comunque lo stile, cioè diciamo il tuo stile, si nota, che non è una classica... Allo mio stile, però, è una donna, cioè non è un fumetto, non so come dire, quando realizzavo a volte, non so, La Gatta, questo nemico di Ratman, questa donna bellissima così, però è una donna finta, cioè donna da fumetto. In questo caso invece ho cercato di andare verso qualcosa di più artistico. È un crossover, di più artistico. È un crossover, tra la realtà e poi il tuo immaginario, perché quello è comunque il tuo immaginario. Esatto, no, poi alla fine, devo dire la verità, per i visi sono rimasto sempre con i musi da scimmia, per cui non ce la faccio, proprio... Sì, ti focalizzi sul corpo, insomma. Sì, sì, la mia comfort zone purtroppo non mi permette di fare delle... Non troppo. Sì, no, ma è anche il tuo, in un certo senso, la tua firma, quello, cioè, in questo modo per rendere il tuo... Sì, lo vedi, non puoi sbagliarti. Sì, 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 non c'è dietro la graffite come nelle tavole di Kirby, ma la si può mettere, no, nel senso, quando devi venderle, quando dovrai vendere le sporche, dicendo... Senti, ma adesso, cioè, andiamo un po' oltre, ma il cervello di un creativo, anche il tuo, no, il cervello di un creativo, quando si ferma, cioè, quando produce, cioè, quando nascono. Io ho una cosa che è sempre, mi è sempre piaciuta tantissimo di Ratman, sono i tempi comici, è una delle cose più belle, sono i tempi, cioè, da come? Da un nulla, basta più cambiare tavola, cambiare vignette e ridi, ridi perché sono i tempi, ridi proprio per te, ma, cioè, quando ti vengono queste idee, quando ti vengono queste cose? Ti pianto, devi prima ridere tu, o, cioè, quali prove deve superare, un fumetto? Vabbè, magari io non rido, però mi rendo conto che è divertente, ecco, è diverso, un po'. Cioè, ho riso poche volte, facendo le mie stesse storie, un paio di volte, sì, però, insomma, ti intattiare, un paio di volte è un po', però, ti rendi conto quando la battuta funziona, proprio grazie ai tempi, i tempi sono, secondo me, sono tutto, anche perché, se la dici prima, se la dici dopo, l'hai sbagliata. No, è perfetto. È un po' come quando racconti le barzellette che io non so raccontarle, infatti, però su carta, dove ai miei tempi sono… Sono tempi diversi. Sì, sono in grado di raccontarti, di fartela ridere, di far recitare i personaggi, perché è importante anche quello, a volte, quando tu, diciamo così, realizzi una storia, spesso volentieri ti accorgi che magari chi sta disegnando, magari su testi di altri, non li sta interpretando bene, o comunque sia li sta facendo recitare in maniera, forse, un po' didascalica, mentre invece se tu sei l'autore completo, quindi scrivi disegni, e ce ne sono tanti gli autori completi, hai già in mente la recitazione dei tuoi personaggi. C'è quello che riceve degli spazi prima, occupare la tavola, occupare i tempi, occupare i tempi. Esatto, esatto. Non vuoi fare la semiologia di Ratman che non è il caso, però è vero che davvero c'è questi tempi binari, nel senso si esauriscono in vignetta, attacco e battuta, attacco e battuta, effettivamente funziona, funziona, forse è un successo di Ratman, forse. Sì, 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 esatto. Per esempio c'è questa tavola qua, dove lui che guarda la tv si tratta un sacco e lo vedi che ride per uno, due, tre vignette, l'altro gli fa almeno accendina. Cioè sono queste cose qua che fanno poi la, 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 vabbè insomma che qua siamo... C'è un sacco di roba. Questo è un fotocopio che posso anche sbattere per lei. Il tavolo santo è diventato. Allora la fotocopia poi ce la lasci che ce lo... Sì, sì, sì. E qua è la storia di Ratman. Senti, un'altra cosa, ti chiedo l'ultima cosa che praticamente abbiamo il Western, gli spaghetti Western, abbiamo Matrix, abbiamo visto Guerra Stellare, la parodia. È un modo che ti, ti spinge a creare oppure davvero ti piace giocare sul, ricostruire, ricostruire una storia? Guarda, a volte con la parodia ho cercato di ricostruire delle storie. Sì. Magari ad esempio con l'ultima saga di Guerra Stellari che è stata buttata, scusate, ne abbiamo parlato quando ero nel video l'altra volta. No, no, ma parliamone, parliamone. È stata veramente buttata così. Sì. E questo da un colosso come la Disney non, non è accettabile. Cosa ho fatto? Ho preso, diciamo così, gli elementi li ho ricreati, li ho ricostruiti dando un senso nel mio mondo a questa saga qua. insomma. Ed è, a volte quindi ti spinge non solo a fare una cosa divertente, ma anche a riproporla in maniera tale che possa… È bello. Sì. Ma in realtà, chi fa parodia, chi è bravo a fare parodia è perché conosce bene l'opera, in un certo senso è un atto d'amore. Sì, sì, sì. Esatto. Se sai bene… Beh, chiaro. Sennò non puoi giocare su… No, devi amarlo, eh. È vero, sì. Perché alla fine comunque si ama le Guerre Stellari, cioè… Scusate, io in mezzo a questi tesori mi permetto di mostrare… Brava. …il mio che conservo dal 2001, perché questo quadretto, spero che non faccia troppo riflesso, risale al primo incontro con Leo in cui io mi sono messa diligentemente in fila per ottenere un meravigliosissimo disegno che ovviamente è stato incorniciato. Te non avevi assolutamente idea di chi fossi io invece ero lì ad aspettare in fila e niente, volevo, volevo farlo vedere e quindi adesso unito insieme a queste opere insomma mi commuovo. Qui ci sono delle cose… Sì. C'è ancora qualcosa. C'è ancora qualcosa. È infinita. Tipo quella di Marie… Vuoi vedere qualcosa di veramente… Questo è un rollino delle macchie… Quello è un contenitore, però dentro c'è un… Sì. No, questo è bellissimo. Questo c'è Gigrobot. Oddio, cos'è? Il mio libro? Sì. Io mi divertivo a fare questi libri di… così… illustrati… Ma di cosa hai fatto? Cioè proprio lei rilegava… La carta, sì sì, l'ho incollata, ho fatto la copertina di un cuoio per cui sai… Dall'inizio alla fine, fine, c'è scritto fine quindi… No, posso maneggiarlo perché… No, anch'io dopo voglio… Gigrobot, uomo d'acciaio… Minerlo da vicino… Questo è prima dell'ottico… Allora, io sono appassionato anche di miniaturizzazione dei libri, delle cose… Una volta avevo letto che esisteva una Bibbia di pochi millimetri, una Bibbia… E io avevo fatto… Vabbè, ero un ragazzino, avevo fatto una cosina che era un millimetro e mezzo… No, due millimetri per uno e mezzo… E c'è scritto l'eterno riposo… L'ho perso purtroppo… Ci vogliono tipo quegli occhiali con mille lenti… Sì sì, veramente… Sono anche pianofortini… Ma ne ho tantissimi di questi… Di questi… Di questi… I microlis… Avevo fatto intere biblioteche su… Non so, su specie vegetali… Andavo in giro in campagna… Guardavo che foglia era… Scritto anche… Però miniaturizzando… È interessante questa cosa… Io… E poi lo prendi con un po' d'acqua quello… Bellissimo… Mi immagino una libreria… Sì, ne ho fatti tantissimi… Ne ho portato uno… Perché poi dopo… Quindi che li hai tutti… Hai una… Tutto… Vabbè… Sì sì sì… Vabbè… Questa è una… Probabilmente una forma di… Mentale… Non so… Di conservazionismo… E poi vabbè… Di accumulo… La cosa bella… Esatto… Sì però… Non volevo entrare… Nella tecnica… No… La cosa bella è che io non avevo mai saputo come fossero grandi le tavole a fumenti, no? Per cui la prima volta che ho partecipato a un concorso… Avevo… Una tavola con delle vignettine piccole che dovevi andare lì vicino… Perché io faccio così… Io vedo delle tavole così… Bellissimo… Con delle vignette grosse così… Come appunto quelle di Kirby… Perché ovviamente poi vanno ridotte… Esatto… Devono mantenere la stessa qualità… La qualità, no? Alla fine io mi sono assestato su un… Su un A4… Perché poi quando faccio le fotocopie… È già pronto… Quindi non c'è bisogno di ridurlo… Bello… Poi viene ridotto ovviamente in stampa… Ma all'inizio usavo i blocchettini… Con queste cosine fatte a biro… Questo qua sarà del 78, 79… No, vabbè… Ragazzi… Io sono… Una delle poche persone che riesce a zittirmi… Perché sono incantata… Spazio 1999… Che praticamente erano le parodie di Spazio 1999… Cercavo di fare dei robottoni inventati… Cartrake… Anziché Goldrake… Non so poi cosa c'era… Telegiornale… Facevo le parodie dei telegiornali… Facevo… Ma sì… Sono cose… Però fatti su questi… Su questi blocchetti… Tu teni tutto Leo? Cioè… Conservi tutto? Ma di quello che ho fatto sì… Non so perché l'ho fatto… Perché lo facevo fin da piccolo… Quello di conservarlo… No, no… Mi piace questa cosa qua… Non lo so… Però ecco… Non è neanche il più vecchio… Cioè… Sono di quelli dove… Eh… Cartrake… In realtà… Cioè… Il disegno l'hai creato dall'inizio… Nel senso che c'è… Tu hai iniziato disegnando… Paperino… Poi hai affinato una teca… Sì… Quando hai raggiunto secondo te… Tutto disegnato… Cioè… Un modo di… Disegnare che ti piace… Che insomma… Che ti appassiona… Guarda… Cartrake… Perché in effetti… Prima di… Cosa succede? Che prima della pubblicazione… Io lavoravo però… Per me… Per i miei amici… Così… Faccio queste storie… Che poi giravano magari… Ma lo stile… Era abbastanza… Povero… Cioè… Perché comunque sia… Non so… Mentalmente… Non doveva approcciarmi… A un livello… Di professionalità… Nel momento in cui… L'ho fatto… E di questo ne è stupito… Anche Andrea Plazzi… Che è mio amico… Ed editor da Navita… Io ho fatto… Un salto da così a così… Cioè… Ho cominciato a inchiostrare… Col pennello… Il pennino… Cosa che prima non facevo… E… Le orme di Kirby… Per cui tutte le mie… Le mie prime storie di Ratman… Ma è un passaggio… Di… Così… Di recuperare quello stile… Quella pennellata… E… Quindi è il 95… Quando praticamente ho fatto il primo album autoprodotto di Ratman… Da lì… C'è il salto… E poi da lì comincia… Sì… È una crescita… Un po' per il pubblico… Esatto… Esatto… Poi comunque sia… È sempre… Uno stile che se lo guarda adesso… È abbastanza… Acerbo… Per certi versi… I personaggi sono ancora troppo gommosi… Ecc… Veramente… Guardare le tavole… Ripercorrere tutta la tua carriera… Fino ad oggi naturalmente… Perché c'è ancora tanto da scrivere… Sì… Due giorni… Hai sentito il medico… Sì… È veramente bello… È appassionante… Ci ha… Sì… Ci ha stupito… Ehm… Però sono tutte tavole… Sono disegni… Cioè… È statico… Io so che hai avuto già un'esperienza nell'animazione… Ti piacerebbe ritornare a animare anche i tuoi personaggi? Ma sì… Mi piacerebbe… Chi lo sa che non sia il momento per tornare… Questa è un'anticipazione… Questa è un'anticipazione… Si lo sa… E allora rimaniamo qui… In attesa… In attesa… Fermi… Non animati ma fermi… Va bene… Basta che non ci rianimano… Esatto…